Ciao a tutti, sono Daniele Giordano, sono nato il 2 agosto 1992, sono attualmente iscritto all'albo dell'Ordine degli Ingegneri di Salerno presso la sezione A e quindi sono un ingegnere civile ambientale. Precedentemente ho conseguito la laurea magistrale presso l'Università degli Studi di Salerno in Ingegneria per l'Ambiente del Territorio nell'anno 2019 e ancora prima ho conseguito la laurea triennale in Ingegneria Civile per l'Ambiente del Territorio. Attualmente sono impiegato in un ufficio tecnico e gestisco quello che riguarda la sicurezza sul lavoro e sono un assistente alla direzione tecnica del progetto Resilienza sulle cabine elettriche ACEA a Roma e posso dire che questo percorso universitario mi ha servito non solo a sviluppare le tematiche di cui ero interessato in ambito ingegneristico ma anche di essere introdotto al mondo del lavoro e quindi di conoscere quelle che sono le situazioni in cui si va incontro nel mondo del lavoro. Personalmente sono aperto a qualsiasi esperienza sempre nel campo dell'ingegneria civile e ambientale in generale e quindi mi ritengo pienamente soddisfatto di quello che mi è stato fornito attraverso il mio percorso di studi.